Non è un sogno, in realtà ho visto una bellissima sposa atterrare in elicottero. Un'idea bizzarra? Non direi. Meravigliosamente romantica, invece. Ecco che scende, è per lei la migliore accoglienza nel giardino, uno dei tanti, del Vitaria Country Residences, un luogo dove la campagna profuma di mare. E non è uno slogan che leggi sulla brochure, è una sensazione vera, reale, anche questa. Basta guardarsi intorno, anche in questa dolce domenica novembrina. Laggiù c'è il mare, dall'altro lato, le vette innevate del Gran Sasso, e la vista che si perde tra le dolci colline abruzzesi, i borghi, la vicina Morrodoro e i colori, i profumi della natura d'autunno. Vitaria è un angolo di paradiso in terra, dove nessuno ti promette mari e monti. Li hai a portata di mano, come scrive Cesare Bruni, uno che, di angoli di mondo, ne ha visti, conosciuti e vissuti davvero tanti. Eppure è qui, che racconta, sgrana gli occhi e calpesta la terra. Vitaria la trovi salendo a Morrodoro, dalla ex statale 150, su di un colle a 300 metri di altitudine, eppure così vicino al mare e dalla montagna. Il luogo ideale per qualche giorno di vacanza, per immergersi nel verde e nella natura, senza rinunciare al comfort. Non solo. Vitaria ha ambienti perfetti per ospitare matrimoni, ricevimenti, compleanni, convention. Banchetti che risulteranno esclusivi per la location. La qualità del servizio, l'eccellenza della cucina, la cordialità di Albano e Michela, che sono lì ad accogliervi. Seguiamo la sposa, che nel frattempo è scesa dall'elicottero ed è entrata. Ad attenderla c'è la fiera. Il progetto Sposi, qui, ha riunito l'eccellenza della sua filiera. La magia è quella che culmina con il sì sull'altare o in comune. È tutto quello che c'è da fare prima e da trovare poi, che potrebbe dar ansia ai futuri sposi. Ecco quindi la filiera. Ecco perché a Vitaria, in Fiera Sposi, ci sono tutti, per un consiglio, per un'offerta, un'occasione, ma sempre aspirando al meglio ed al più bello, perché tutto sia perfetto e facile. Ecco allora le proposte per muoversi di non solo Nolo. Noleggi, auto, moto, imbarcazioni in via Gramsci a Giulianova. Per muoversi si può pensare anche alle emozioni in carrozza, per matrimoni ed eventi davvero speciali. Per una sposa che voglia stupire invitati e principe azzurro, beh, che ne dite di un atterraggio in elicottero? Yo-yo della Aeroeli Servizi Costruzioni Euronautiche di L'Aquila. Sarà difficile giustificare un ritardo, ma sarebbe arrivare come un dono dal cielo. Non solo festa, c'è una casa da rifinire e da arredare. Ci si trascorrerà una vita, probabilmente. Per scegliere bene ci sono i consigli dell'Edilcasa dei Fratelli Orfanelli, ceramiche, sanitari, rubinetterie, mobili e accessori bagno, da Mosciano Sant'Angelo e nel nuovo showroom di Roseto degli Abruzzi. Fiori, 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 tanti petali rossi di rose. Bellissime composizioni tra tradizione e innovazione, con un grande tocco di raffinatezza. Per allestire la chiesa, la sala della cerimonia, per il prezioso e sospirato bouquet da lanciare. Gardiene a blu di Silvi Marina ti sorprende. Per un viaggio di nozze speciale ci sono i consigli e anche le offerte di souvenir viaggi di Roseto degli Abruzzi. Occasione da non perdere per scegliere una vacanza, magari da ricevere in regalo, che non sarà come le altre perché sarà la luna di miele. La vacanza da tenere in un angolo speciale dei ricordi per tutta la vita, perché è la prima con un anello al dito e dovrà essere dunque speciale. La boutique del regalo a Roseto degli Abruzzi è il posto dove tanti imbarazzi trovano soluzione. Per il regalo innanzitutto, perché per i futuri sposi sarà davvero facile completare una lista nozze, magari mentre scelgono bomboniere e confetti. Scegliendo le fedi e il consiglio di chi è davvero un grande esperto, difficile non lasciarsi sedurre dai gioielli di Delpidio. JK Diamonds al Roseto degli Abruzzi. Dopotutto c'è anche il finanziamento e poi un diamante resta per tutta la vita. A questo punto bisogna davvero fermarsi, guardare ed ammirare. Una sposa sorprende sempre e per questo una promessa sempre mantenuta è di le spose di Manti, di Chieti Scalo, per lei ma anche per lui e più giovani da Migelle. La comunicazione gioca un ruolo fondamentale per non floppare. Ci sono le ideazioni grafiche di nuove soluzioni della Expander Communication di Roseto degli Abruzzi. Se siete prigri, indecisi o più realisticamente presi dai tanti impegni quotidiani, lavorativi e familiari, una soluzione o meglio le più opportune soluzioni disegnate su di voi. Le trova Doma Wedding Planner di Veronica Costanza, una amica esperta che vi accompagnerà in tutte le fasi del matrimonio senza mai lasciarvi soli. Per casa ci pensa Malvone Costruzioni. Conosciuti per serietà e qualità, i loro appartamenti offrono tantissime soluzioni. Nelle dimensioni, localizzazione e condizioni di pagamento, senza mai lasciar delusi sugli standard edilizi. Si chiama Officina della Bellezza. Nasce il lusso ad un piccolo prezzo e lo slogan ci sta tutto. Ad Albadriatica ci sono professioniste brave ad esaltare, nascondere, rifinire. Insomma, bisogna essere perfette dal make-up alla pettinatura, unghie, mani, look insomma. E la torta? Nella piazza del comune di Roseto degli Abruzzi c'è la Rosetana. Chi l'ha assaggiata lo sa, chi non la conosce ha la fortuna di doverla ancora scoprire. E non solo perché la fantasia di questi artisti della pasticceria non manca proprio, anzi... Ed ora un break per ascoltare il coro polifonico Beato Nunzio di Pescara diretto dal maestro Gianni Golino. Non dico la serenata, ma ci avete mai pensato ad un coro così al vostro matrimonio? Non dico la serenata, ma ci avete mai pensato ad un coro così al vostro matrimonio? Sono bravissimi, simpatici, sanno cantare e giocare con la musica. Sono una coppia irresistibile, in tour. La vocalist Roberta e il DJ Fabio, con loro l'animazione e il divertimento, sono assicurati. Avete già pensato alle bomboniere? Qualcosa di assolutamente originale, unico? Carla Handmade, ovvero fatti a mano, oggetti bellissimi e unici per segnatavoli, cake topper, fiocchi di nascita o più semplicemente un regalo esclusivo. L'orelò di Rosetto degli Abruzzi, invece, va sull'intimo, notte, mare. Capi seducenti, pratici, intriganti, non solo per la sorpresa della prima notte di nozze. Tornando alla casa da abitare dopo le nozze, se non si pensa di farlo già prima, DS Illuminazione di Giulianova suggerisce che, a volte, è sufficiente un cambiamento di prospettiva per vedere la luce. C'è stile, c'è arredo, non solo luce. Non occorrono grandi spese per una casa da copertina, sarà vero? Chiedetelo a Zona Cottura, Cucine e Arredi di Mosciano Sant'Angelo. Qui assicurano forti della loro esperienza. Spazio cucina, ambiente notte e aree ragazzi, da riviste e da arredo. Perché non provare? Ci hanno messo la faccia e la copertina. Empower your vision. Il click della macchina fotografica è quella di Elio D'Ascenzo, un artista dello scatto e non solo. Un occhio che saprà raccontarvi e fermare l'attimo infinito che resterà acceso per una vita. Magari con una lacrimuccia riguardandola qualche tempo dopo o magari immagini che scorrono sullo schermo. Questa è la lunga e completa filiera della sposa. Manca il banchetto, dimenticavo, siamo a Vitaria, quindi la soluzione c'è. Dove, e non è incredibile, è possibile anche sfilare e che passerella. Musica 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 non importa